benvenuti alla diciottesima tappa di questo percorso evolutivo diventa maggiorenne oggi il nostro percorso si chiama la diciottesima tappa lo portiamo a 20 tappe non più in là comunque perché sennò poi rischia di diventare veramente pesante veramente un pacco veramente una palla tanto per usare dei termini comprensivi e forse che vanno anche un po di moda oggi giorno diciamocelo i video precedenti collegheranno tutto questo percorso quindi guardatevelo tutto perché sennò magari anche se non c'è un ordine preciso ma non riuscite a venirne a capo se poi volete fare una cosa ben fatta fatta bene compratevi il libro come volversi senza invecchiare ormai a vostra disposizione dal mese di maggio è un print on demand quindi va acquistato online attraverso il sito lampi di stampa www.lampi di stampa.it oppure lo potrete ordinare anche tramite la vostra libreria di fiducia occorreranno alcuni giorni in più probabilmente però alla fine riuscite ad averlo fate come meglio credete come vi è più comodo costano euro è un bel libretto che vi ricollegherà un po a tutto questo percorso che abbiamo fatto in maniera veloce chiaramente con il libro lo potrete fare voi personalmente in maniera molto ma molto più approfondita oggi vi voglio suggerire un'altra cosa in questa diciottesima tappa come vi vi vedete come vedete il vostro cervello come vedete la vostra persona come pensate che si programmi sapete che potremmo paragonarci a degli hard disk dei bellissimi personal computer che usiamo e certo perché anche noi ci programmiamo però non c'è l'omino che ci programma che dice nell'hard disk ci devi mettere questo e poi questo e poi questo e poi questo ci auto auto programmiamo come ebbè ognuno di noi ha un suo modo di codificare gli eventi della vita di codificare le sensazioni e quindi in base alla codifica che uno fa si pone di fronte ad esse io di fronte a una sensazione reggiscono un modo un'altra persona reagisce in un altro perché la codifica in modo diverso di come la codifico io la vive in modo diverso e di conseguenza agisce diversamente e allora cos'è importante è importante come abbiamo detto in precedenza renderci padroni della nostra personalità in modo da poterla gestire da poter gestire queste auto programmazioni da far sì che non gestiscano gli altri ed è la cosa più difficile essere padroni della propria personalità ma è la cosa più bella perché nel momento in cui io gestisco la mia programmazione non la lascio più gestire agli altri nel momento io nel momento in cui io non sono padrone della mia persona non gestisco la mia auto programmazione non la gestisco e la lascio gestire agli altri e come diventare padroni della propria persona iniziando a riflettere prendendo spunto dalle riflessioni che sono state fatte nei video precedenti perché essendo alla diciottesima tappa bisogna cercare di tirare un po le fila e quindi iniziamo prendendo spunto dai video precedenti imparare a svuotarci imparare a pensare con la nostra testa escludendo gli eventi i fattori esterni imparando a isolarli imparando a personalizzarli e cominciando nuovamente a credere che sono io io unico essere fatto a modo mio che devo pensare con la mia testa questo è molto ma molto importante quindi torniamo ancora a riflettere sul come diventare padroni della nostra persona perché uno potrà dire ma io penso come voglio a me non gli obbliga nessuno sì è vero che non ti obbliga nessuno ma sei sicuro che non ti stia condizionando proprio nessuno sei sicuro di essere padrone di tutta la tua personalità fai veramente ciò che desideri fai in prevalenza ciò che desideri o fai in prevalenza ciò che devi fare perché lo devi fare ma soprattutto la tua soddisfazione è in ciò che desideri o in ciò che fai perché devi fare e poi terza cosa ciò che fai perché devi fare ti appaga e se non ti appaga riesci a trarre beneficio in ciò che desideri vi lascio a questi interrogativi ognuno risponda come meglio credere anche perché a me potreste rispondere come volete ma alla vostra coscienza no non riuscite a mentire di questo ne sono perfettamente sicuro quindi mi auguro che nel vostro interiore arrivino le migliori risposte possibili se non arrivano è ragazzi miei ragazze mie dovete lavorare affinché ciò avvenga di spunti ve ne ho dati guardate i video precedenti o comprate il libro che sicuramente vi aiuterà è tutto per questa diciottesima tappa buone cose a tutti buona giornata a tutti